Bangkok torna alla normalità dopo le manifestazioni contro il colpo di Stato. O almeno, questo sembrano indicare le immagini dei soldati impegnati a ripulire le strade della capitale tailandese e non a fronteggiare dimostranti. Tra gli abitanti c'è chi si dichiara contrario alle proteste. Dopo tutti i problemi che abbiamo avuto, noi tailandesi dovremmo collaborare e andare tutti nella stessa direzione. Sono d'accordo con le misure prese contro i manifestanti. Domenica migliaia di agenti e soldati sono stati inviati nella capitale dove piccoli gruppi di dimostranti hanno sfidato il divieto di assembramento. Dopo aver preso il potere il 22 maggio, la giunta militare ha arrestato molti oppositori e sospeso la Costituzione. Gli Stati Uniti criticano la scelta di non indire elezioni per almeno un anno e chiedono la liberazione dei prigionieri.